Al termine del comando di nave Minbelli, come tra l'altro era preventivato, aveva preventivato il capo di Stato Maggiore durante l'uscita a Kiel, mi ritrovai a fare il caporeparto Aeromobili, cioè il responsabile dell'aviazione navale della Marina al Palazzo, sul Lungotevere, quindi come caporeparto Aeromobili e più che altro responsabile, oltre che dell'attività destrativa, dell'efficienza dei velivoli assegnati anche di tre programmi importanti, uno che riguardava l'acquisizione della linea degli AV-8 Bravo, dei jet quindi per la nostra Marina e per l'impiego sulle portaerei e la sistemazione a grottaglie per tutte le attività, quindi con un ampliamento della base di grottaglie che l'aeronautica ci aveva nel frattempo ceduto, l'altro era l'acquisizione degli elicotteri EH-101 con gli inglesi in particolare, quindi con una joint venture con gli inglesi, con questo elicottero che può, un commuter che può portare, dipende dagli assetti, fino a 30 persone, 30 passeggeri, oltre ad avere ovviamente una valenza operativa per i nuovi sonari imbarcati, i nuovi radar, le nuove sistemazioni operative a bordo di un elicottero così importante. Tra l'altro anche il Presidente Bush aveva già fatto, tutti ricorderanno, l'ordine per acquisire questi EH-101 se non fosse stato, poi per motivi di, tra virgolette, protezione industriale che gli americani fanno regolarmente, altrimenti era già praticamente avviato, avviate le attività contrattuali. EH-101, l'altro era l'elicottero NH-90, di cui noi avevamo fatto un ordine di 56 per le attività nelle unità porta-elicotteri perché la valenza di avere un elicottero a bordo, soprattutto un elicottero nato per operare da bordo e non come la B204, la B212 di provenienza di estrazione terrestre, molto diverso quindi anche ai fini della condotta, della sicurezza e dell'operatività, con l'NH-90, l'elicottero è un elicottero nato che adesso sta rinfoltendo le linee anche attualmente della Marina al posto degli elicotteri medio-leggeri a B212. Questi sono stati in termini di investimenti sicuramente l'attività principale del reparto, fermo restando che nel periodo ci sono state parecchie altre attività dall'invio delle navi con elicotteri e aerei a partire dalla Somalia, dal conflitto bosniaco in Adriatico con Garibali, con tutto quello che prevedeva l'acquisizione di armamento e anche di addestramenti e di verifiche specifiche per il loro impiego. Quindi tutto questo riguardava ovviamente il compito che avevo io come caporeparto aeromobili, caporeparto dell'aviazione navale, ma la cosa forse più importante che è stata fatta dal punto di vista organizzativo, la costituzione di questo ente, comando delle forze aeree, Comfort Air, alle dipendenze della squadra navale, che svolgeva tutte le missioni e le mansioni operative di tutti i mezzi volanti assegnati alla Marina. Quindi con una, come dire, una riorganizzazione del sistema che prima era centrato solo allo Stato Maggiore, ora c'era una suddivisione sia come navi sia come materiale volante a chi? Alla squadra con un comando che era un comando a doppio cappello, che ho inventato e che mi hanno inizialmente contestato in maniera piuttosto acerba allo Stato Maggiore, ma che poi con gli anni si è dimostrato una soluzione organizzativa assolutamente vincente adottata anche da altre componenti. Detto questo, al termine di un'attività veramente notevole, anche impegnativa, ma di grande soddisfazione, anche se all'inizio non volevo, non era la mia desiderata, come ho ripetuto anche al mio capo di allora, poi mi ha, in lo stesso capo, mi ha gratificato assegnandomi l'incarico di comandante dell'Accademia Navale. Mi ricordo che un giorno, era più o meno a giugno, mi chiama il capo di Stato Maggiore dell'epoca, Ammiraglio Guarnieri, che aveva un difetto, fumava come fumavo io, quindi mi chiamava e diceva se ti vieni che ci fumiamo una sigaretta insieme. E invece, oltre alla sigaretta, c'era un rapporto molto figliale, molto particolare, molto affettuoso, ma anche molto, ovviamente, estremamente rispettoso in maniera reciproca. Mi disse, cosa vuoi fare? Dico, ma veramente io cosa vuoi fare? Non ho mai sentito dire in Marina, scusami. E non era un ammiraglio di quelli soft. Dice, senti, forse non hai capito. Ho detto, cosa vuoi fare? Vuoi andare a comandare una divisione, la divisione di Spezia? Vuoi andare a comandare l'Accademia? Cosa vuoi fare? O vuoi... Ma mi lasci 24 ore per pensarci, nel senso che sono tutti incarichi che farei estremamente volentieri. Beh, insomma, non sono passate 24 ore, sono passate 4 ore, gli ho detto, Accademia Navale. Perché, dico, la divisione o le navi, posso sempre andarci. Se perdo questa occasione per l'Accademia, ovviamente è una questione di grado, di livello, eccetera, io non potrò più farlo. Dice, bravo, anch'io sono diventato capo di Stato Maggiore, non ho mai comandato l'Accademia. E questo me ne dispiace. Ho accettato, quindi, il comando, la designazione. Avrei, beh, forse potuto anche dirgli di no, che avrei voluto un'altra cosa. Invece, lì ho deciso e poi sono stato estremamente soddisfatto della scelta, della decisione presa. Tant'è, io ho assunto il comando nell'estate del 99, il primo luglio del 99, dall'amiraglio Larosa, che poi è diventato capo di Stato Maggiore della Marina, poco dopo, pochi pochi mesi dopo. E da lì è iniziato un'attività veramente, direi, unica per certi versi. Unica perché, per esempio, parlando dei nuovi ingressi, tra i nuovi ingressi c'era la legge che prevedeva l'ingresso delle donne nelle forze armate, quindi, che era una legge di fine 99, mi pare la 380 del 99, che però, io sono arrivato a luglio, già a ottobre c'erano i corsi, ottobre e novembre, per cui c'era un'accelerazione, è stata un'accelerazione notevole anche perché dovevamo cambiare, modificare le strutture per renderle più o meno idone all'arrivo delle ragazze, delle donne, e fare tutte quelle modifiche, quegli allestimenti che in qualche modo tutelavano anche in maniera reciproca, sia il maschietto che la femminuccia, perché la cosa era reciproca da un punto di vista anche della privacy, di un minimo di privacy, quindi che tutelavano entrambi. E così è stato, le donne hanno fatto ingresso nel 2000, le prime, ci sono stati quindi il concorso che si è svolto da novembre a marzo più o meno, la cosa stranissima, auspicabile ma non preventivabile, è stato che in quel periodo io ho avuto esattamente 4540 domande di ragazze contro le 2000-2500 che era la normalità fino allora per i ragazzi, diciamo che variava da anno e anno, da corso a corso, però in media era da 1500 a 2000-2500, questo era il range negli anni delle domande degli allievi, dei ragazzi, dei concorrenti, quell'anno, anche perché si è trattato di recuperare delle volontà certamente pregresse, solo per le donne siamo arrivati a oltre 4500 domande, quindi lascio immaginare, abbiamo dovuto rifare un concorso completo per le donne, per le ragazze, visti i numeri e visto, quindi lavoravamo giorno e notte per riuscire a fare le selezioni previste dal concorso e per ammettere le donne. Le donne sono state ammesse nella misura iniziale del 20% rispetto ai posti dedicati alla totalità, diciamo, della prima classe e quindi erano 30, anche se avevano vinto il concorso in maniera numericamente superiore, però c'era una deadline anche comprensibile, per vari motivi, per immettere con una certa gradualità nella Forza Armata, chiaro che non si poteva pensare a un anno tutto di donne o giù di lì, quindi è stata una buona, un'ottima esperienza, anche perché hanno consentito l'ingresso delle ragazze, da una parte di elevare il livello, diciamo, culturale, istruzionale, perché erano tutte o quasi tutte ragazze che avevano dalla loro due, tre anni di università, erano state accettate anche con età superiore a quelle dei maschietti, ma era previsto dalla legge, fino a 25 anni addirittura, però avevano una cultura decisamente più matura, ecco, diciamo, dal punto di vista istruzionale, si sono piazzate tutte nei primi 20-30 posti, nei vari corpi, erano tutte, perché sono più studiose, le ragazze si sa, sono più attente, più studiose, e soprattutto avevano dalla loro un'esperienza già universitaria, la gran parte, se non la totalità, e quindi hanno avuto dei risultati, devo dire, notevoli, soprattutto nei primi anni, io mi ricordo il primo anno che avrei dovuto far diventare Capocorso una donna, proprio per tutelarla, poi è diventata nel secondo anno, ma per tutelarla, perché non aveva un riferimento storico, come Capocorso sappiamo, di impegni che comportano nell'ambito di una classe intera, e quindi abbiamo dovuto tenerla un po' buona, ma le altre correvano dietro, voglio dire, subito a seguire, quindi gente di ottimo livello, di ottimo spessore, che si sono subito, come dire, uniformate all'ambiente accademia, voglia di dire l'ambiente duro, ambiente duro, ma le donne sono più dure dei maschietti, quando si tratta di, anche per far vedere probabilmente, per dimostrare che avevano tutto il diritto di entrare in una società fino allora dedicata ai maschietti, hanno fatto benissimo, non bene, benissimo perché le graduatorie parlavano. Non ci sono, come qualcuno si prevedeva, pronosticava in maniera negativa, non ci sono stati degli eventi, per dire scabrosi, di harassment tra maschietti e femminucce, perché avevano altro a cui pensare, entrambi, e anche perché le donne, essendo più anziane rispetto a ragazzino di 18 anni, già se fossero stati della stessa età, poteva esserci qualche scambio così. La ragazza di 23, 24, 25 anni non ci pensava proprio di mischiarsi con me. Però abbiamo dovuto riadeguare le norme comportamentali, quindi hanno in qualche modo limato anche quello che era la semantica dei nostri, dei ragazzotti piuttosto greve, quindi hanno apportato anche una certa, come dire, gentilezza, signorilità, vai, nell'ambito dell'Accademia Navale. Poi a bordo le cose magari sono leggermente diverse, perché un conto è trovarsi nelle università, in una università particolare come è l'Università del Mare dell'Accademia Navale, però che è centrata sostanzialmente sugli studi, sull'applicazione, loro hanno dimostrato di essere più che all'altezza. E, ripeto, nell'ambito poi del percorso degli anni, effettivamente hanno avuto degli ottimi risultati anche a bordo, anche come comandanti delle navi. Abbiamo già avuto dei comandanti delle navi donne giù nel canale di Sicilia. Per dare un avvio comunque di un certo tipo, perché come dicono a Napoli, nessuno nasce imparato, è chiaro che c'è voluto, per avere dei riferimenti, io andai nelle varie accademie spagnole, francesi, a Brest, anziché inglesi, e recuperare delle, che avevano già da anni, almeno da una decina d'anni, le donne nei loro ranghi, recuperare dei punti di riferimento che potevano essere appunto dei sottotenenti, delle sottotenenti di vascello, dei tenenti di vascello, in maniera tale che facessero da riferimenti e da controllori e da indottrinatori anche dei gruppi delle donne nostre appena entrate. Queste, io ho presi una dalla Spagna e una dall'olandese, furono degli elementi, dei riferimenti, dei punti di riferimento fondamentali, imbarcavano anche durante il periodo della crociera, quindi della campagna estiva sul Vespucci, e effettivamente ci ha dato una grossissima mano. D'altra parte, noi eravamo la Marina, l'ultima fra le marine nato, che avevano adottato la norma finalmente di avere queste ragazze. Quindi ci sono tanti aneddoti, ne voglio ricordare uno per tutti, per le ragazze. Oltre ai corsi normali, noi spesso, quasi ogni anno, dipende dalle situazioni, facciamo un'acquisizione, la Marina fa un'acquisizione in forma diretta di laureati particolarmente qualificati all'esterno, diciamo, dagli ingegneri, avvocati, a seconda delle medici, delle situazioni deficitarie che abbiamo, facciamo dei concorsi. Abbiamo bisogno di tre ingegneri, perché per la parte costruttiva non abbiamo nessuno, abbiamo tutti, così succede, tra successo. Uno di questi concorsi fu proprio per ingegneri, tre ingegneri per la parte civile, ingegneri civili, edili, perché non avevamo nessuno, contrariamente all'aeronautica o all'esercito, che aveva il genio militare con personale, capace, e voglio dire anche autorizzato, istruito per fare una certa attività. Noi avevamo gli ingegneri navali, avevamo gli ingegneri elettronici, ma non l'ingegnere civile. Si fa il concorso di questi tre posti, che ovviamente anche le donne concorrevano a quel punto, perché essendo aperto per le donne, concorrono oltre 50 ingegneri, di questi 50 ingegneri, tre vincono. Chi sono tre? Tre donne. Quindi il concorso vinto da tre ingegneri donne. Bene, io faccio in modo di, era appena iniziato, era settembre, troviamo i vestiti, le divise, che lì adattare, cioè sembra tutto facile, però può diventare tutto difficile. c'è i locali, i locali dormitori, le attività che devono essere appunto tutelate, sia per l'uno che per gli altri, le divise, le divise, perché lo Stato Maggiore spingeva per un'intervista, perché c'era tutta la stampa fuori dai cancelli, ogni giorno, era curiosi per sapere di questa novità delle donne, io avevo ogni giorno da rispondere, minimo a due, tre televisioni, due, tre addetti stampa, perché c'era un interesse anche sociale, per l'amor di Dio, per capire cosa si andava a fare, la marina cosa andava a fare. Bene, allora questa, c'era una delle maggiori testate, tra l'altro abbastanza, con femministe molto spinte, che pretendeva un'intervista a tutti i costi, ma non alcolate dall'Accademia, direttamente a queste tre entrate, erano appena entrate, non avevano nemmeno, ci avevano la divisa, perché le avevamo adattate un po' con le, dei maschietti, e allora, alla fine, lo Stato Maggiore dice, no, no, lei deve sentire, deve fare intervista, bene, io faccio l'intervista, no, nessun problema, le porti, le porto e faccio arrivare, nel mio ufficio, si siedono, e c'è questa giornalista, molto agguerrita, molto femminista, molto a, che dice, dice, immagino, in maniera anche abbastanza aggressiva, immagino che voi, vestendo questa divisa, beh, abbiate abbandonato l'idea della maternità, perché con questa divisa, insomma, con questi comportamenti, da comandanti, da futuri, dovete, dovete abbandonare, se vi fece una domanda, che effettivamente, questi tre, che erano trovato ragazzi, di 27, 28, 29 anni, non erano bimbe, cioè gente che aveva lavorato fuori, già in studi, in agenzie, eccetera, avanza avuto un'esperienza, una dice, ma dice, veramente io sono mamma di due bimbi, e dice, lei scusi, che mi fa questa domanda, ha figli, allora, e lì c'è stato il primo gelo, ma poi ce n'è stato un altro a seguire, questa, dice, vabbè, accusato un po' il colpo, perché dice, ma cosa va a dire della maternità, cioè, tre ragazze, io dico, dice, ma, ma come fate a vivere in un ambiente così duro, così maschio, così, insomma, schedulato, e se con una disciplina così ferrea, così duro, tipico dei maschi, allora, la risposta di questa ragazza è stata, dice, sì, no, è vero che c'è una disciplina, erano lì da una settimana, sapevano, poverete, sì, più o meno, no, uno riesce a, anche perché, ripeto, non erano delle bimbe, era gente abbastanza matura, anzi, matura, che aveva già lavorato, dice, ma veramente io ho lavorato, risponde questa, in uno studio di ingegneri, abbiamo fatto, dice, ma la mia esperienza è che, laddove non c'è disciplina, e non c'è ordine, non c'è nessun progresso, quindi lei mi può dire che, qui, la disciplina è dura, sicuramente è dura, ma è ben conosciuta, le regole sono ben note, quindi dice, non riesce a capire, perché dice, fra i giornalisti, non c'è una disciplina tale, che possa portare, a una resa, no, dell'ambiente, e lì si è fermata, l'intervista, perché effettivamente, queste due, tre ragazze, gli avevano fatto capire, che era lei quella fuori, dal, dal, voglio dire, dalla realtà, non erano loro, che erano appena entrate, in un mondo, che sicuramente, fino allora, era maschio, ma che poi è diventato, sempre più, tra virgolette, rosa, e, a ben vedere, devo dire, la realtà, adesso in Marina, credo che siano, sui 1700, 1800, ragazze, sparse, nei vari corpi, che hanno iniziato, tra l'altro, quando io comandavo, l'Accademia, che iniziai tutti i corpi, dai medici, allo Stato Maggiore, agli ingegneri, recuperando anche, ovviamente, il passato, credo che, si stiano dando da fare, con, con, delle, delle rese, assolutamente, di livello, sia per loro, che per la Forza Armata. Grazie.